Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, buon lunedì, buon tutto! Che ora sono? Scusate, aspettiamo, guardiamo l'orologio, le? Le sette. Mamma mia, manco tempo, io già sono in onda. Ragazzi, grazie a tutti per l'inboccalupo che mi avete fatto, per Biondo. Ma Biondo lo sapete? Per il pelo ma non il vizio, ora sta benissimo, ha giocato, ha mangiato tutto a posto e ora è, guardateli, un pascià, tanto, che pensariava, lavorare non ci va, un euro a casa non lo porta, una birra e due Coca-Cola. E chi si è visto, si è visto, Biondo? Buongiorno Nikita, io ancora, non è che non gli ho dato il buongiorno, allora, volete sapere la verità a che ora mi sono alzato? Perché signorino, chiama a banco, io stavo dormendo e mi sono visto uno tsunami in faccia, ho detto, oddio, poi siccome ora è grosso, lo confondo, di notte, cioè alle 5 del mattino che fa buio, mi vedo sta faccia, i suoi occhi con i miei, ho detto, ma chi sei? Pensavo che era Oscar, la sua mamma, invece era lui. A un certo punto gli ho detto, ma che vuoi? Non sapendo che ora era, poi ho visto che erano le 5 del mattino, mi fa, wow, wow. Se ok, vuole a mangiare. E come correva? Solo che ora ha giocato, ha fatto la nottata, ha giocato alle 2, alle 3 di notte. Perché lo sapete, i gatti vivono la notte di più. E il giorno, e il giorno si dorme. Vero? Bambolina, ora biondo e tutti quanti, io compresi, abbiamo ricevuto un bellissimo regalo da un'amica straordinaria che pazza anche di loro, di tutti e cinque. Ve lo faccio vedere in esclusiva. Venite. No, restate. È emozionante. Ma che c'è, chi? Che fai? Pulizie straordinarie? Straordinarie, gioia? Che dicono le palline, vediamo? Le palline, ormai li possiamo mettere sull'albero di Natale. Maggi che bello sto biondo. Si sta pulendo. Ah, a proposito, il regalo che mi ha fatto Arianna, una mia amica. Guardate che bellezza. Credo che questo vada sull'albero di Natale. Però non so se riuscite. Guardate che bello. Praticamente non è altro che tutti i loro nomi sono cinque. Vedete? Nikita, Ciro, Oscar, Biondo e Loretta. Racchiusi in un cuore. Ma io ti ringrazio di questo regalo prezioso. Cioè la semplicità ci premia sempre. Io non volevo né un Rolex, né un Bulgari, né un Cartier, tanto meno. Ma questo, una cosa semplice. Solo che io albero di Natale, cara Arianna, non ne posso fare con loro. Guarda, è biondo. Questo cuore. Il cuore, il cuore tuo è biondo. No, no, non lo rovinare però. Oddio le unghie nel nome ci hai messo. No, vabbè, biondo. Ma più biondo di lui, chi c'è? Il sole. Lui è il sole. Questo bambino qua. Ah, ah, ah. Ma senti un po', io ti avevo dato, biondo. Oscar, l'hai vista anche tu il cuore? Oscar? Ah, guarda Oscar. Il cuore, ci sei anche tu, sei qua. Dov'è? Eh, no. Sì, Oscar. Tu che ti sei presa, il peluche. Ah, che bello. Ma ragazzi, non ho parole. Quando l'ho spacchettato, ho pianto. Perché nessuno mai aveva pensato i miei bambini racchiusi in un cuore, guardate. Veramente me lo appenderei qua però. Eh, volete? Questo è un regalo di Natale che vi ha fatto una vostra amica e fans. ok. Il cuore, il cuore, il cuore. è un gatto. guardate. Lo so che ognuno, i suoi figli, dice ah, signora, come ha mio figlio, più bello di mio figlio, non ce n'è, che bello mio figlio, che valente mio figlio. Valente vuol dire che sa fare tutto, chi meglio di lui. e comunque, io lo dico di biondo, non ce n'è per il nudo, oh. Nikita, no, no, è tuo, è tuo. Te l'ho regalato io. No, no, non te lo levo. Però, biondo, guarda, lo stai rovinando. No, ma, 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 cos'è che è inciampato? L'unghietto, l'unghietto. Ah, io, biondo, ti avevo regalato. Ma dov'è? È questo. Ma cos'è sto coso? Ah, il cosino. Del cammello di Nikita. Oh, che bello. E tuo, biondo? Ragazzi, lo so che siete felici che avete visto biondo, ma lui sta bene perché voi lo amate. Perché voi lo amate, questo bambino. stai giocando, vero? E quindi vi ho detto alle cinque del mattino me lo sono visto spuntare in faccia e riserveremo che vuole, che secondo voi. E allora sono sceso sotto. A proposito, ora io vi lascio. Questo lo mettiamo? Che mi deve durare tutta la vita, questo. Io lo amo. Io lo amo. Questo cuore sei tu, biondo. Tu e tutti. Allora, lo rimettiamo nella spalliera del letto, biondo. Qua, dov'era prima. Ecco. Avanti. Biondo, non lo staccare, eh? Ok. Capito, biondino? Lascialo qua. Lo so che lo stai guardando. Tu c'hai questo? Guarda. Avanti. No, dammi. Vediamo. Vediamo. Chi lo vuole questo? Oh, 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 oh. Ah, 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 biondo. Le unghie, no. Le unghie. Ah, 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 ah. Ma io sono più bambino di loro. Vi giuro. 50 anni pesce. Ora lo so che ve lo scrivete. Certo. Quindi, anche quando ne avrò 60, biondo avrà 10 anni, se non sono ignorante in matematica, fra 60 anni io sarò quel bambino. Certo, io ho riscoperto il bambino che c'è mai, visto che da piccolo sono stato mollato dal mondo. Mi riprendo questa rivincita adesso. Eh, purtroppo, essendo il figlio di nessuno, mi danno l'ora, almeno l'affetto. È biondo un papà, ce l'ha. Io non lo so. Non conosco ormai nessuno. Bu. Devo chiamare a chi l'ha visto. Se qualcuno ha visto i miei parenti. Bu. Non lo so. Lasciarelli lo dovrebbe sapere. Io non li ho visti. Voi? Bu. E quindi ci facciamo il Natale insieme con la mia famiglia. Ecco. Vedete che famiglia che ho? Me la sognavo. Io purtroppo vuol dire che meritavo questo. L'abbandono assoluto di tutti. Eh? Ma tutti pensavano che o non lo so, che faceva Barbaro. Eh, Barbaro è andato avanti. Allora, questo è il mio pigiamino. Eh? E quindi siamo una famiglia di sei elementi. Eh? E chi ci ferma più? Manco uno tsunami. Qua c'è l'uragano Katrin. Eh? Questa è la mia gioia. Questo è lo scatto della vita, signori. Vedete? Eh? Tu sei uscita, vero Lory? Tu sei uscita, hai mangiato, hai fatto tutto. Mi vuoi graffiare un po'? Mi vuoi graffiare un po'? Ah? Ah? Ok. Niente, Loretta, stavo raccontando una sintesi della mia vita che io per voi ci sarò sempre. Quello che non hanno fatto gli altri. Ma poi, chi se ne frega, non sono morto. Guardate. Ho trovato il laccetto. Ok? Tieni, biondo. Tieni, biondo. È il laccetto che tu ami tanto. Oh, oh. Dammelo a me. Dammelo a me. Biondo. Oh. Va bene. Ragazzi, è della nostra vita. Ora ci vuole il Renato Zero. I migliori anni della nostra vita. vi amo. Eh? Lo sapete. Da tutti noi. Ciao. Ciao. Biondo.